Something you'll kiss, just don't mean... C'è anche con lui il Regan di Teleaia. Il Regan di Teleaia è Enrico Bonelli. Quindi a questo punto colleghiamoci con la Casa Bianca ed eccoci qui con Regan. Dunque, Enrico, non so se mi devo rivolgere al Presidente o all'amico, ci sono sempre delle cose che fanno pensare. Siamo in una situazione, diciamo, dove soprattutto siamo uomini prima di essere tutto quanto, no? Siamo uomini, no? Gli uomini sono amici, chiaro? Poi dopo tutto il resto. Comunque io ti faccio tanti auguri a te e a tutti noi, a Teleaia. E l'augurio più grande è di iniziare un 81, meglio dell'80, con maggiori risultati che l'80 ci ha dato. Tutto qui. Un augurio di quelli vettorici, ma detto da Bonelli assume un valore singolare. Con questo è realmente tutto, amici, questa volta davvero a risentirci al 1981.